Siamo qua adesso, in onore a chi è quello. Qua c'è il Penny, ecco messo a fuoco. Stiamo aspettando il pulmino per andare a Timisoara e passare una notte romantica nell'aeroporto. Ecco, finalmente ha acceso le luci perché noi scegliamo questo pulma solo per le luci. C'è un signore che puzza tantissimo. E' un cassonetto della patomiera praticamente. E' un misto tra alcol, sigaretta, cacca, bifo, tutto insieme. Ma tanti tipi di cacca, di piccione, di mucca, di uomo. E' abbastanza ben messo, cioè a prima vista così. Praticamente è come Pimp My Ride, ti ricordi SMTV? Il programma che facevano tutto, tamarravano le macchine. Questo è Pimp My Microbus. Guardate come si vede illuminata l'etichetta della bottiglia. E sembra che beviamo acqua blu. Aiuto, attenzione. Apnea. Stiamo intrando in politica. La domanda è chiare, risposta è chiare. Politics. Ok, partiamo. Quindi ci connettiamo al wifi. Ciao. però l'altra volta era più era più era più era più era più pre, era più tardi si ed eccoci qua ragazzi siamo arrivati a Timi a Imisoara arriva il tram che bello guardate il tram oh non c'era nessuno vabbè andiamo a prendere il taxi speriamo ci sia speriamo ci sia il tassista che gioca alle slot machine mentre guida l'impo ne mancare Seattle l'impo l'impo la coppia la coppia è l'impo la coppia Oltretutto questo vlog è praticamente identico all'altro C'è lo stesso viaggio Solo il puzzone in più c'è Stessa musica Stessa musica sul taxi Quasi lo stesso taxista Solo il nostro è la Babbo Natale, va la barba C'è tagliato la barba perché è stato C'è tagliato la barba E adesso il cena time Ragazzi, è mezzanotte 12 Quindi posso iniziare a mangiare i miei midnight wine Ovvero le mie mentine di mezzanotte Sì Grazie Grazie Quando si inizia a staccare la spina Non presenta per rilassarsi Ora è risultato un acqua Ciao 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 Ciao